È stato un risveglio anomalo per numerose famiglie agropolesi, quello di ieri notte, domenica 13 marzo, ad Agropoli. Fuochi d'artificio sparati in piena notte a l'1.30, una vera e propria vigliaccata, soprattutto nei confronti di chi muore sotto i bombardamenti in Ucraina. Un fenomeno che si ripete spesso nella città di Agropoli. Gli episodi creano disagi ai cittadini svegliati dai rumori e anche inquinamento ambientale. Erano circa l'una e mezza quando si sono sentiti dei fuochi d'artificio. Non è ancora stato accertato chi abbia avuto l'idea di festeggiare in maniera tanto plateale nel bel mezzo della notte, scrive un cittadino su Facebook. Dalle testimonianze pare che i fuochi siano stati sparati nei pressi dell'ospedale civile, proprio vicino a un noto ristorante locale. La rabbia di molti è esplosa sui propri profili Facebook. I botti all'1.30 di notte sono il segno della completa strafottenza nei confronti degli altri, scrive un utente, in modo particolare di coloro che sono ricoverati nel presidio sanitario di Agropoli. A tal proposito esiste l'articolo 26 del regolamento di polizia urbana che vieta di fare esplodere botti o petardi in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, nonché a meno 200 metri da scuole, case di cura, ospedali, uffici pubblici e ricoveri di animali. È vietato anche far esplodere fuochi d'artificio in luoghi pubblici o privati dove si svolgono manifestazioni aperte al pubblico. Resta da chiarire chi e perché sceglie un modo così rumoroso per festeggiare se esistono delle violazioni, da qui l'appello al sindaco e alla polizia locale per accertare la violazione e punire i contraffattori affinché si evitino ancora abusi in futuro. E ora è caccia ai colpevoli, una festa un po' troppo rumorosa, insomma, che non è andata giù a tanti.